Il bronze non è niente a confronto, mi creda. Quando comincia un'ora alle due a me viene l'incubo, l'incubo proprio. Un incubo, non si vive più, non è possibile. 48 anni che sono qui, è una cosa assurda. E se non era uno dei posti più belli e caratteristici della città, quello del Porto Canale, via dello Squero, in zona Lido, a Fano. Peccato che qui, durante la notte, è un continuo susseguirsi di vandali, ma soprattutto di Schiamazzi. Io abito qui dalla bellezza di 68 anni, avevo 7 anni. Quando dal Viale Cairoli mi sono trasferita in via dello Squero, era la via più bella di Fano. È diventata una delle più brutte, a causa della movida. E come ha detto la signora, tutti i fini di settimana è così, dopo la mezzanotte fino al mattino. L'ultimo atto vandalico in via dello Squero risale tra la notte di venerdì e sabato scorso, dove è stata presa di mira una panchina in marmo. Con un piolo di acciaio hanno rotto una panchina, che il rumore era assordante. Io pensavo che avessero fatto qualche cosa sulle barche, perché un rumore così, le capisci, nel tonfo della notte erano le tre. Non erano le tre, due tre quarti. Ho detto, madonna, adesso cosa rompono? Ho pensato subito alle barche. Mentre invece siamo venuti giù e abbiamo visto sto disastro. Sono esasperati dunque i residenti che ogni sera passano le notti in bianco. Ma è sempre così, un incubo. Allora, io conosco alcune persone, non le do in nominativa adesso per educazione, che sono dovuti andare via di casa. Sono andati via di casa, perché non resistevano. Dopo tutto erano malate, le capisce con le notti così, hanno dovuto andare via, dopo una vita che vivevano qui. Nel frattempo, chi ha a cuore questo posto, ha già preparato una lettera indirizzata al sindaco di Fano per intervenire il prima possibile. Segnalato da inizio estate con delle chiamate alla polizia municipale, carabinieri e quant'altro, di fare dei giri per controllare, visto che c'erano queste situazioni. Allora ci hanno suggerito di fare qualcosa di scritto al primo cittadino. Vuoi non vuoi? È passato il tempo, l'ho fatta ieri sera, ormai la stagione è finita. Spero, mi auguro che servirà per il prossimo anno. Perché ci sono queste vere e proprie bande di ragazzini e ragazzine che noi presumiamo, assolutamente minorenni, però non è che gli abbiamo chiesto il documento, che arrivano con bustoni di alcolici, superalcolici. Ho fatto anche delle foto proprio superalcolici. Creano danni, fanno danni. Mi hanno detto anche alle barchette qui sotto o con una barra mi hanno detto che hanno rovinato qui. Lasciano tutto a terra e sono aggressivi perché sono in un momento in cui non sono lucidi. È un peccato, è un peccato perché è una via da restituire ai residenti e a chi vuole fare una passeggiata tranquilla. Quindi al sindaco chiedete più controlli? Abbiamo chiesto i controlli, anche per responsabilità sociale nostra nei confronti dei ragazzini, del loro futuro, a interesse loro e anche a interesse del bene comune. È giusto intervenire, insomma, sia per loro che per il quieto vivere di tutta la comunità.